Ci troviamo presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e siamo in compagnia del parroco della stessa chiesa Don Carlo Pisani che ci illustrerà il programma dei relativi festeggiamenti. Sì, oggi 15 luglio inizieremo la novena in preparazione alla festa della Madonna di Costantinopoli con il rosario alle 19 e alle 19.30 la Santa Messa poi seguirà l'intonizzazione della statua della Madonna con la novena ed ogni sera sarà così il programma alle 19 il rosario, 19.30 la novena e messa. In questo novenario in modo particolare ci soffermeremo a meditare su un libro dell'Antico Testamento, il libro di Esther che è uno dei pochi libri della Bibbia interamente dedicato ad una donna. Poi il giorno 17 alle ore 21 ci sarà una visita guidata partendo dalla chiesa madre di Santi Pietro e Paolo alle chiese del centro storico, quindi le tre chiese più antiche della nostra città, la chiesa madre, la chiesa della Dolorata e la chiesa della Madonna di Costantinopoli. Il giorno 23 i pescatori della nostra città accompagneranno il quadro della Madonna partendo dalla chiesa della Madonna di Costantinopoli fino al porto dove si terrà la celebrazione della Messa e poi la benedizione del mare. Mentre il giorno 24, giorno che secondo la tradizione agropolese è dedicato alla memoria liturgica della Madonna di Costantinopoli al mattrino, avremo quattro celebrazioni dell'eucaristia alle 7.30, alle 7.30, alle 8.30, alle 10.30. e poi alla sera alle 18.00 Don Ernesto Nonziata presiderà la Santa Messa Solenne cui seguirà la processione che ha la sua parte più caratteristica nella processione per via mare, quindi sulle imbarcazioni. In comune accordo con il comando dei vigili, in occasione del novenario, in occasione delle celebrazioni, il varco della ZTL di Via Landolfi sarà disattivato proprio per permettere ai fedeli di partecipare e alla novena e alle celebrazioni del giorno 24. Inoltre il giorno 23 luglio si terrà nella chiesa della Madonna di Costantinopoli ad Agropoli la Santa Messa alle ore 23.30.